Ecco noi, un vecchio costruttore del passato. Allora, il mostro è arrivoso? Il mostro è arrivoso, per pensi che basta. Però se capita qualcosa, qualche stato da fare... E raccontaci un po' la tua storia gillistica. E quando è stato il primo anno? No, nel 1966, negli anni 60. E qui c'è il giglio del calzolaio, il circolo della caccia. E come sono cambiati i tempi? No, è un po' cambiati. I tempi non sono come prima. E oggi? Oggi è proprio... Si è rivolta la festa. A nel bene, a nel male. C'è stanno... Sia il bene che il male... Sono di pari passi, camminano. Il bene è finito. E c'è più il male oggi? Più il male è bene oggi. E oggi che fai? Oggi che faccio? Oggi che faccio? Su a riposo. A riposo? Bravo. E' la costruzione dei gigli di... E' sempre nel cuore. Ci sta sempre quella malattia del giglio. Però il gamba non ce la fanno più. E' quindi... E' l'UNESCO a Nola? E' importante? L'UNESCO è importante, però non si fa sentire. Non si... Non c'è la presenza. Ma... E' il personaggio che stavano tanti anni fa. L'artista che modellava. I ragazzi che stampavano la carta pesta. Era un tutt'uno tra l'apparenza, costruzione e maestre di feste. Era un tutt'uno. E quindi anche i musici... Era una famiglia in tutt'uno. Si univano con questa famiglia e si facevano questi gigli in feo. Veramente con la figlia. Oggi no. No, no, no. Oggi è solo per interesse, per esporsi alla politica più che tosto. La politica. E' il tuo fare con i giovani. Qual è? E' di poter manifestare la mia forza, la mia manualità dell'attività di... Ma i giovani seguono? Ci stanno che seguono. E' giusto bene. Si, ci sta che li seguono il mio lavoro. Speriamo che... Si incrementano. Speriamo che vanno avanti. E la Fondazione sta facendo... Si, la Fondazione sta dando una mano a fare queste manovre. Speriamo bene. Speriamo bene. Ok.